Benvenuti a questo nuovo appuntamento di Corriere Turismo, oggi ci troviamo a Lido di Iesolo. Lido di Iesolo sorge sulla sottile striscia di litorale tra la laguna di Venezia e la foccia del Piume Piave. 15 chilometri di spiagge attrezzate, molte delle quali animate, una grande isola pedonale con negozi, ristoranti e locali aperti fino a tarda notte. La città all'avanguardia e moderna attrezzata sembra costruita appositamente per soddisfare ogni desiderio, anche quello del turista più esigente. Ai turisti la città propone numerose opportunità che vanno dai parchi acquatici ai bellissimi canti da doggio. Lido di Iesolo è un ottimo punto di partenza per effettuare vere e proprie escursioni organizzate verso la laguna di Venezia e città d'arte come Padova e Treviso. A Lido di Iesolo la vacanza è relax assicurato, ma anche e soprattutto divertimento.